Continuiamo a trattare del bellum civile di Lucano. Abbiamo quindi detto che egli deforma di fatto la storia, quindi attinge comunque fonti storiche a partire da Livio, poi a Esigno Poglione, poi sicuramente insomma i commentari di Cesare, ma deforma le vicende. Fu accusato in realtà già dai suoi contemporanei di aver scritto un'opera di storia anziché un'opera epica. È come se lui avesse quindi scritto un'opera di storia utilizzando i versi esametri anziché la prosa. Questo perché? Perché lui appunto trattò vicende storiche seguendo proprio una scansione analistica, quindi seguendo gli eventi anno per anno. Infatti Lucano parte proprio dopo quel proemio che abbiamo letto e dopo poi le lodi tributate a Nerone. Di fatto Lucano quindi inizia il suo bellum civile con un breve ritratto di Cesare e Pompeo e poi inizia il vero e proprio racconto del passaggio del Rubicone e quindi dell'occupazione di Rimini e quindi ovviamente dello scoppio vero e proprio della guerra civile. Dopo questo episodio, anno per anno, quindi anzi episodio per episodio, mese per mese, continua quindi a trattare le vicende seguendo appunto le sequenze di quello che furono gli avvenimenti storici anche con la deformazione insomma di cui abbiamo parlato. Come già dicevo appunto i libri centrali di questo bellum civile sono sicuramente il sesto in cui compare questo episodio della necromanzia a cui abbiamo fatto cenno e quindi in cui sesto Pompeo invoca la Magarittone affinché possa venire a conoscenza dell'esito della battaglia di Farsalo e poi ancora il settimo libro che proprio si incentra pienamente totalmente sulla battaglia di Farsalo e quindi appunto dopo aver delineato bene i due protagonisti e dopo aver inserito dei discorsi diretti, dei dialoghi insomma tra i due protagonisti o meglio i discorsi diretti che sia Cesare sia Pompeo e che lo rivolsero ai propri soldati tratta appunto della battaglia in sé e quindi appunto della sconfitta di Pompeo. Ora sicuramente quindi è vero che Pompeo trattò un diciamo il genere epico in maniera assolutamente originale, in maniera assolutamente nuova e rovesciando di fatto quella che era stata la tradizione. Quindi propone un modello di epos completamente nuovo. Le critiche oltre quindi a basarsi su questa diciamo su questa attenzione rivolta alla storia furono delle critiche rivolte al Lucano anche perché il poeta rinuncia di fatto a spiegare la storia umana ricorrendo alla volontà divina. Quindi sono quasi del tutto assenti all'interno del bellum civile gli interventi degli dèi, i concili degli dèi e quindi è assente una sorta di provvidenzialismo. Questo provvidenzialismo viene sostituito invece da un'attenzione per il macabro, per l'orrorifico, per l'elemento magico, quindi per aspetti irrazionali che comunque incutono timore, ma sicuramente non danno quello slancio di fiducia diciamo così nelle divinità che invece comunque era fortemente presente in altre opere epiche, basti pensare a Virgilio. Si è parlato infatti per Lucano di un vero e proprio modello antiepico o antivirgiliano. Ricordiamo bene che quando ho fatto la premessa ai generi letterali di età Giulio Claudio avevo detto che una particolare attenzione all'interno dell'età del periodo neuroniano era proprio rivolta all'aspetto orrorifico, all'aspetto diciamo così macabro, spaventoso. Quindi a questa sorta di manierismo antelitteram, non ve lo mettevo in qualche modo in relazione anche con il gusto seicentesco per gli eccessi. Già abbiamo ritrovato questi aspetti all'interno delle tragedie senecane, li ritroviamo pienamente anche in Lucano. Andiamo adesso a vedere quali sono gli aspetti che hanno fatto sì che Lucano venisse considerato proprio un autore che ribalta l'epica virgiliana. Allora, Virgilio aveva rievocato all'interno delle Neide il passato eroico, chiaramente la saga di Enea. Questo passato eroico veniva visto come premessa di un futuro glorioso e quindi chiaramente le geste del popolo romano, che sarebbe poi culminato nell'epoca augustea, che chiaramente era l'epoca contemporanea di Virgilio, che ovviamente doveva magnificare, come ben sappiamo, e celebrare la Pax Augusta. E ovviamente Augusto veniva presentato all'interno del poema virgiliano come un eroe che era rispettoso delle libertà repubblicane, che quindi comunque andava a costituire una nuova era, ma partendo dalla tradizione e rispettando la tradizione. È chiaro che Virgilio avesse fede nella provvidenzialità dell'impero, provvidenzialità che si poteva attuare soltanto in accordo con la volontà degli dèi. Non a caso abbiamo più volte sottolineato come all'interno delle Neide virgiliana fosse fortemente presente il concetto di Fatum, che era proprio quello che avrebbe guidato Enea per tutto il suo percorso. e quindi il fato era l'elemento che andava al di là, al di sopra anche della volontà dei singoli dèi di fondare appunto una città da cui poi sarebbe sorta la futura gloria di Roma. Lucano opera un lavoro diametralmente opposto. Lui distrugge proprio i miti virgiliani e augustei e sostituisce quindi un suo, diciamo così, antimito di Roma. Si è parlato appunto per Lucano di un antimito. Innanzitutto al posto di Augusto abbiamo Nerone. È chiaro che Lucano non parla esplicitamente di Nerone, ma è anche evidente che dietro un personaggio come Cesare, che appunto viene dipinto come un personaggio dotato di iubris, quindi un personaggio tracutante, un personaggio che aspira soltanto alla sete di vittoria personale. C'è sicuramente un personaggio tirannico che in qualche modo prelude alla situazione di mancanza di libertà tipica dell'impero neuroniano. Inoltre la vicenda che viene narrata all'interno del bellum civile è una vicenda che non ha nessun tipo di giustificazione razionale. Già l'abbiamo visto nella premessa, nella prefazione del primo libro. Abbiamo parlato appunto di un furor, di una pazzia, di una follia che ha fatto sì che gli uomini si scontrassero tra di loro. Di fatto quindi il bellum civile racconta qualcosa che non è affatto edificante. Racconta quindi un episodio mesto, un episodio triste, un episodio funesto della storia romana, in cui il vincitore sicuramente non è un vincitore moralmente ineccepibile, ma è un vincitore che comunque ottiene la sua vittoria appunto per una sete di potere personale. E quindi di fatto a vincere è sicuramente il personaggio peggiore. E quindi non c'è la celebrazione di un mito, ma semmai appunto l'esaltazione o la messa in luce di un antimito. Inoltre i valori, se sono presenti all'interno di questo bellum civile, sono presenti soltanto come rievocazione di un passato che però non può più tornare. E un personaggio che rievoca sicuramente i valori del passato è Catone, che però sappiamo è destinato alla sconfitta. Inoltre c'è il rifiuto della funzione celebrativa della poesia. Ripeto, non si celebra nel bello un civile una vittoria, non è la celebrazione della vittoria di Farsalo, di fatto è la celebrazione di una sconfitta, la celebrazione della morte della libertà, delle libertà repubblicane, quindi la vittoria di Cesare, che inizia un governo tirannico che quindi pone fine a qualsiasi ansia, a qualsiasi desiderio di libertà repubblicana. Peraltro, rispetto all'Eneide Virgiliana, in cui comunque c'era un forte equilibrio interno, abbiamo parlato di una bipartizione evidente in Virgilio, i primi sei libri su un modello odissiaco rievocavano le peregrinazioni di Enea, mentre gli ultimi sei libri su un modello dell'Eliade rievocavano invece le guerre all'interno del Lazio per l'affermazione di Enea contro i utuli. Di fatto invece nel bello un civile manca questa simmetria interna, questa ripartizione, e quindi c'è una reazione che possiamo definire proprio asimmetrica, perché comunque ci sono delle parti trattate in maniera più efficace o trattate comunque con una maggiore estensione delle vere e proprie monografie, dei veri e propri excursus, ci sono delle parti invece soltanto accennate. E poi anche una reazione selettiva, perché appunto, come ho già detto prima, Lucano decide proprio di omettere alcuni dati e di fatto, come ho già detto, diciamo non è fedele nella ricostruzione storica. Inoltre, l'impostazione di Lucano è un'impostazione assolutamente soggettiva. Quindi lui non sottolinea quello che era appunto il destino di un eroe, come poteva aver fatto appunto Virgilio nell'Eneide, ma di fatto interviene frequentemente nella narrazione commentando anche i fatti e le vicende, quindi facendo emergere chiaramente il proprio punto di vista, che è sicuramente un punto di vista negativo. E inoltre, rispetto al poema virgiliano, Lucano innanzitutto capavolge la tematica e l'impostazione generale, questo l'abbiamo già detto, perché appunto non c'è la celebrazione di una vittoria, ma viene sottolineato appunto un periodo di furore, di follia, appunto una lotta tra consanguinei. Poi rovescia il modello virgiliano nei particolari. Lo rovescia però alludendo continuamente al poema di Virgilio. Vedremo poi nello specifico di che cosa si tratti. Nel senso che appunto è chiaro che Lucano comunque abbia come modello Virgilio, ma nello stesso tempo è chiaro anche che lo sta rileggendo in una luce completamente nuova. Il racconto quindi della guerra civile è di fatto una metafora, quindi è come se Lucano attraverso questa metafora della guerra civile comunicasse la sua visione totalmente negativa della storia. Andiamo a vedere nello specifico in che modo Lucano ha presente il modello virgiliano, ma in che modo vi alluda rovesciandolo. Innanzitutto al Pius Eneas Lucano contrappone l'Empio, Cesare. Quindi Cesare è proprio un anti-Enea. Cesare era, Enea era chiaramente il Pius, quindi appunto l'eroe devoto agli dèi, alla patria, al padre. Al contrario invece Cesare non ha scrupolo per nessuno, non ha riguardo per gli eserci, non ha riguardo per la propria patria, pensa soltanto al proprio profitto. Secondo punto importante. Nel sesto libro delle Neide veniva narrata una discesa negli inferi da parte di Enea e quindi tutto questo episodio della catabasi con cui poi Enea sarebbe entrato in contatto con il padre Anchise e avrebbe quindi conosciuto il futuro glorioso della storia romana e l'esito chiaramente positivo della sua impresa. Nella Farsali invece il sesto libro, come abbiamo già accennato, è dedicato ad una necromanzia. Quindi c'è una rivocazione dei morti con cui la Maga Eriptone quindi riporta artificialmente in vita con le arti magiche un soldato e quindi gli fa predire quella che sarà la disfatta, disastrosa appunto di Pompeo a Farsalo. E quindi c'è un rituale nero che chiaramente è l'esatto contrario del rituale che invece la Sibila Cumana fa compiere ad Enea, ricordiamo l'episodio famoso del ramo d'oro presente nel sesto libro. Ancora, alla Sibila Cumana viene sostituita invece la Maga Eriptone, quindi ad una sacerdotessa di Apollo presente nelle Neide Virgiliana subentra qui invece una maga abominevole, quindi una sorta di strega. E infine, sempre nel sesto libro, alla pacata luce dei Campi Elisi che erano appunto un luogo comunque rassicurante, il luogo degli eletti, il luogo del premio eterno, fa da contrasto invece l'orrore notturno dell'antro delle streghe che viene appunto evocato in questo sesto libro e a partire dal quale la Maga Eriptone inizierà il suo rituale magico. Quindi questi sono gli elementi sicuramente più evidenti che ci permettono di contrapporre i due poemi. Ora, peraltro, per approfondire questo aspetto della necromanzia, la necromanzia era un espediente con cui venivano rievocati i morti i quali avrebbero predetto il futuro. Un episodio di necromanzia lo sappiamo benissimo, era presente anche nell'undicesimo libro dell'Odissea, la famosa Necchia, con cui appunto Ulisse, sgozzando le vittime nere e versando il sangue all'interno di una fossa, fa sì che le anime dei defunti emergano dal sottosuolo che possano comunicare con Ulisse affinché appunto Ulisse possa parlare con l'indovino Tiresia. Nel bello un civile si evoca invece un soldato morto per predire delle sciagure, quindi abbiamo anche qua un rovesciamento della tradizione epica. Ancora, è chiaro che se come abbiamo già detto viene meno il ruolo provvidenzialistico degli dei e viene meno l'intervento divino, a farla da padrone nel poema di Lucano è sicuramente La Fortuna che è appunto un cieco caso, è la pura tiuche che quindi interviene appunto senza nessun disegno provvidenziale. E quindi è chiaro che in qualche modo Lucano esprime una sorta di scetticismo nei confronti dell'esistenza degli dei. Scetticismo che sicuramente lo pone un po' anche in contrasto con la dottrina stoica di cui lui stesso era seguace. È chiaro che qui non c'è nessun tipo di pronoia, non c'è nessun tipo di provvidenzia se vogliamo rievocare anche le parole di Seneca ma di fatto appunto le guerre civili sono la manifestazione di un abominio e quindi non c'è nessuna volontà provvidenziale da parte degli dei. Andiamo brevemente a rivedere i personaggi più importanti appunto di questo bellum civile. Innanzitutto Cesare che abbiamo detto è un eroe negativo che è arso da questa brama di potere ha una volontà di trasgredire continuamente la legge di sconvolgere l'ordine e quindi commette gesti di iubris e di impietà un gesto importante ovviamente proprio l'attraversamento del fiume Rubicone che già viene inserito nel primo libro del bellum civile di Lucano questo attraversamento del Rubicone viene fatto nonostante appunto di fatto i divieti dello Stato romano quindi con questo attraversamento Cesare viene proprio considerato da Lucano una sorta di nemico pubblico è chiaro che anche qua l'interpretazione è diametralmente opposta rispetto a quella che ci dà Cesare stesso nel raccontare l'attraversamento del Rubicone come fatto diciamo così inevitabile in questo caso invece al contrario è un atto deliberato con cui Cesare si pone contro lo Stato inoltre c'è un altro episodio importante che è l'incendio di un bosco sacro i soldati di Cesare lo esortano più volte quindi a non compiere questo gesto e vogliono astenersi appunto dall'incendio di un bosco sacro ma Cesare stesso che quindi dà l'inizio a questo incendio ponendosi in questo modo quindi contro la volontà degli dèi andiamo a leggere brevemente in traduzione un breve passo del bellum civile tratto dal settimo libro che è quello in cui appunto si racconta della battaglia di Farsalo in cui si legge proprio il compiacimento di Cesare nel vedere i corpi dei romani pompeiani defunti sparsi appunto sul terreno Cesare trionfante dall'alto di cadaveri ammassati vede la pianura inondata di sangue con la luce dell'aurora scorge il corso del fiume sospinto appunto dal sangue dei soldati uccisi e guarda compiaciuto che mucchi di corpi morti uguagliano la cima dei colli enumera i popoli di Pompeo a quella visione ordina di imbandire una mensa nel luogo da cui può riconoscere le sembianze e i volti dei caduti è soddisfatto non riesce a intravedere il suolo de mazia mentre percorre con lo sguardo i campi nascosti dalla strage quindi si vede proprio questo compiacimento morboso di cesare che osserva i corpi dei caduti dei defunti cerca di riconoscere i loro volti e poiché appunto questi defunti sono i suoi nemici è contento di questa strage quindi gode dello spargimento di sangue all'interno del bellum civile abbiamo anche un episodio diciamo un momento in cui Cesare e Pompeo vengono contrapposti in una sorta di soon crisis Cesare viene visto come un fulmine mentre al contrario Pompeo viene visto come una quercia è evidente che le due metafore sottolineano da un lato la velocità ma anche diciamo così la diciamo la futura vittoria di questo eroe nero appunto di questo Cesare contrapposta invece con la passività di Pompeo legato invece alla tradizione passata ora Pompeo quindi come viene visto Pompeo è Pompeo Magnus quindi Pompeo grande la grandezza di Pompeo però appartiene a dei valori del passato che non sono più attuali e quindi è un eroe destinato al declino è un è un anti-Enea in un certo senso perché mentre Enea viene continuamente sospinto dal fato verso il suo destino di vittoria al contrario invece Pompeo è come se fosse perseguitato dal fato quindi è come se fosse proprio destinato fin dall'inizio alla sconfitta ripeto simboleggiato dalla quercia di contro invece al fulmine che simboleggia Cesare ed infine il personaggio di Catone Catone è sicuramente la summa un po' dei valori in cui in cui lo stesso Lucano si riconosce è imperturbabile e quindi è il vero e proprio ostaggio stoico è privo di passioni è privo di odi e quindi non teme sicuramente la servitù non teme nulla non teme il destino di fatto quindi nell'adempimento della volontà del fato non riconosce però un piano provvidenziale cioè Catone sa che dietro la sconfitta di Farsalo da parte di Pompeo quindi dietro la vittoria del tiranno del futuro dittatore Cesare non c'è una volontà provvidenziale di ordine ma c'è un prevalere di irrazionalità di ingiustizia per cui la sua virtus si contrappone in maniera titanica agli dèi e al destino quindi di fatto Catone in qualche modo è sì il saggio stoico ma è il saggio stoico che in qualche modo sconfessa possiamo così dire lo stoicismo cioè non si piega al destino ma gli va titanicamente incontro quindi non accetta quella che è la vittoria di Cesare quindi non si ritira dalla guerra ma al contrario lotta contro tutto e contro tutti ben sapendo che ovviamente sarà destinato alla sconfitta rimane però moralmente dalla parte giusta infatti c'è un verso famosissimo tratto appunto del bellum civile nel primo libro che dice Victrix causa dei splacuit sed victa catoni cioè dice la causa della vittoria o meglio la causa dei vincitori piacque agli dèi ma la causa dei vinti piacque a Catone quindi in qualche modo attraverso questa sentenza si sottolinea come Catone anche lui destinato in qualche modo alla sconfitta però consapevole appunto della giustezza della correttezza di quello che erano i suoi valori di quelle che erano le sue convinzioni lotta fino allo stremo delle sue forze ben sapendo di essere appunto destinato alla sconfitta ma per questo appunto rimane pur sempre un eroe terminiamo brevemente con gli aspetti dello stile diciamo del ballum civile innanzitutto è molto forte il gusto per le sentenze che abbiamo già riscontrato ovviamente in Seneca e tant'è vero che qualcuno ha parlato per quanto riguarda dello stile di dello stile appunto di Catone di una sorta di stile cosiddetto concettoso appunto legato a quest'uso delle sentenze ad uno stile ricercato ricco di frasi effetto e fondamentalmente insomma ripeto l'abbiamo già individuato comunque anche in Seneca il tono è sicuramente magniloquente che vuol dire che comunque si utilizzano delle delle forme diciamo si utilizza un registro alto e quindi comunque la sintassia è sicuramente complessa quindi ipotattica ci sono procedimenti proprio dello stile patetico quindi per esempio le apostrofi ai personaggi una serie di interrogative retoriche una serie di escamative ed inoltre nei discorsi presenti all'interno del poema nei discorsi diretti ovviamente c'è un ampio ricorso a moduli tipici della tragedia per esempio ampie orazioni orazioni che spesso mettono in contrapposizione due personaggi i monologhi che sono sempre ricchi di patos il compianto per situazioni deplorevoli o anche delle imbettive contro i nemici di attravervi attravervi